Onorevole Reguzzoni, PDL e Futura Libertà litigano per quanto riguarda il testo sul disegno di legge sulla giustizia, in particolare sul lodo Alfano. Qual è invece la posizione della Lega Nord? La Lega vuole una riforma che porti la giustizia a livelli europei, cioè il nostro sistema a essere giusto, molto più veloce di quanto è oggi, perché una delle principali cause e dei problemi della giustizia è proprio la lentezza dei processi. La Lega Nord come può garantire che il federalismo fiscale non dividerà l'Italia in due? La divisione è nei fatti, nel momento in cui ci sono delle discrepanze evidenti. Il federalismo serve per tenere unito il Paese e serve per diminuire la pressione fiscale che ha toccato delle punte ormai insopportabili.